Ciao, pastelline, come state? Io ovviamente spero che vada tutto, 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 molto, 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 benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video. Questo, come avrete letto da carino, sarà un video pensato, 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 per il vostro rilassamento, come sempre. Ma è da un po' di tempo, anni, che non c'erò un video in cui vi leggo, vi leggo qualcosa. E nel frattempo, poi chiudete gli occhi e cercate di dormire. Avevo pensato di girare l'intero video in inaudible per accontentarvi. Mi riesce davvero molto, 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 molto difficile a parlare solo, solo, solo in inaudible. E a pensare di registrare un video lungo, come siete abituati, insomma, sul mio canale, trovate sempre video della durata media di 30 minuti, anche di più, anche 40. Quindi per assicurarvi un bel video lungo, non mi sarà possibile registrarlo tutto in quel modo, parlando appunto in inaudible. E poi, non piace a tutti, c'è chi lo ama, da impazzire. E purtroppo, su questo canale, ce n'è davvero poco. Perché a me non è che fa impazzire, né come trigger da ascoltare, né da farlo proprio, se mi seguite da anni, lo sapete già. Quindi ho pensato di fare un po', e un po', un po', e un po', per accontentare tutti, anche me. Quindi, ho preso un libro, io ho tantissimi libri di psicologia, la maggior parte, e due o tre libri, insomma, tipo romanzi, cose così. E basta, sono andata nel mio salotto, e ne ho preso una a caso di mia madre. Perché, ho pensato, quelli che ho io di psicologia, sono molto settoriali, specifici, con termini tecnici, magari vi annoia. Quindi, ho preso questo, che non ho mai letto. Non so proprio di cosa parla, lo scopriamo insieme. E si chiama, e si chiama La Donna della Domenica. Io sono registrata domenica, avrei voluto pubblicarvelo di domenica, ma questo non mi è stato possibile, perché, appunto, questa settimana non sono riuscita a registrare nulla. Ed eccolo qui. La Donna della Domenica è un fruttero e lucentini, tra i miei autori. Fruttero, 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 lucentini. Allora, è anche un po' malandato questo libro, mi sa che è un po' datato. Presto, vi genererò un video dedicato solo al tapping, whispering e tapping. Fatemi sapere se vi può piacere, come idea. Allora, oggi faccio un po' di whispering e un po' di nautibus al vero e lucret. Non so se vi siete accorti, ma anche ha passato di parecchio le luci rispetto al solito, per avere, appunto, un'atmosfera più sfusa. Allora, allora, il primo capitolo si intitola Il martedì di giugno in cui... Il martedì di giugno in cui fu assassinato l'architetto Carrone. Guardo, l'ora molte volte, aveva cominciato a prendere gli occhi nell'oscurità, nell'oscurità fonda della sua camera, dove la finestra, ben tappata, non lasciava filtrare il minimo raggio. Mentre la sua mano, ma a destra, per impazienza, risaliva lungo le anze del cordoncino, cercando l'interruttore, l'architetto era stato preso dalla paura e ragionevole che fosse tardissimo, che l'ora della telefonata fosse già passata. Ma non erano ancora le nove, avevo visto con stupore, per lui, che di solito dormiva fino a dei dieci d'oltre, era un chiaro sintomo di nervosismo, di apprezzione, di apprezzione. Calma, 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 si era comandato. Sua madre, sentendole muovere, era andata automaticamente a preparare il caffè, e lui, dopo un buon bagno, di cui aveva davvero bisogno, già da tempo aveva indocciato a radersi con meticolosa lentezza. C'erano circa tre o quattro ore da far passare, ne restavano tre, quando era uscita di casa, dopo aver sfiorato con le labbra la tempia di sua madre, e un'altra mezz'ora l'aveva smaldita, allungando deliberatamente il percorso per raggiungere la fermata, e poi, e poi, aspettando il dramma, che a metà mattina passava a lunghi intervalli. Prevedibilmente, l'orologio elettrico della vettura era costo, per via Cibrario, piazza Statuto, e infine, lungo tutta la via Garibaldi, le lancette che non si spostarono, dalle quindici e venti, il polemica, un dubbio, con la finificativa di attenzione, di decadenza cumulata, l'architetto caro, si cambiano pagina su questo, i capondicano, il dramma, di un punto in cui si e Harry, gli latenti, i luci all' Mao, dei mam Eigen passavano, dei likiedetti, l'ho già salito solo avendo le due pietre di tabule che consentivano il posto di più duri a rinviare l'interpre di trovare la cazzotta della rimigra ho visto all'estero una sconezione tra l'inizio della bossa brella non si citiamo che la presi abbia tosto il galleggio di cosa è una sopia di tabule, sopia per riconoscere anche di che le atti sono risultato soprattutto di schiena la provenienza del tutto dei criminali le seguo per un tratto, le seguo per romper la colonnazza, le seguo per i pericoli della situazione per ripresurare la sopiazza e capirlo prima di entrare nel cappello prima di entrare nel cappello per guardare le agravante di tipo le spettrine del cappello le stiamo scantarizzando un pensato con il tenuto pagamento del cappello per ripresurare il cappello per guardarlo la giornata di ripresi cosa vuole, cosa vuole utilizzare se vuole utilizzare il cappello all'arricchietto con il colore raggiunta con l'alzo del palco, l'ombre d'accusso e un poteco di poteco per diventare un poteco di poteco sempre con le mie conto di spaziole, il bravi di l'amore, il conto per il tuo cuore della poteco, il conto per il tuo cuore della poteco, il tuo cuore della poteco, il tuo cuore della poteco non c'erano altri clienti, c'era invece vicino alla toilette una cabina telefonica di legno, di legno scuro in cui si poteva parlare al riparo di frecchi indiscretti non che la telefonata potesse andare per le lunghe a questo punto, ormai la fase di preparazione era superata, ormai era soltanto questione di ah, sussultò, trovandosi di fianco il camorile calvo, senza averlo sentito venire, il sole valfonsino, il giornale per favore l'importante, pensò, inzoppando nel cappuccino la seconda brioche, era di saper aspettare un'altra sua abilità tutto finiva per cascarti in bocca, si sapeva aspettare, self control, la grande regola degli inglesi e se anche come romano uno veniva preso vicino al preguardo, da una tensione, da una tensione, da una smane incontenibile beh, bisognava saperla contenere, nascondere, farsi desiderare, farsi aspettare, ecco il vero segreto strinse fermamente il pugno sul tavolino, doveva chiamare lui, tra mezzogiorno e luna, questa era l'intesa e lui, decise, avrebbe chiamato all'1-5, non prima, e addirittura dopo, semmai, all'1-10, all'1-20 il tempo lavorava comunque, comunque per lui guardo di nuovo l'orologio e comincio a sfogliare la stampa, come in una qualsiasi mattinata al suo caffè Torino, minima 19, massima 28 lo stesso di Reggio Calabria, costato con imparzialità, e l'estate non era ancora incominciata esaminò con attenzione le graziose bagnate tedesche ad Alassio che il quotidiano presentava bisettimanalmente, variando solo il nome della spiaggia da maggio a tutto, tutto settembre un'unica maniera di speciale, giudicola scorre invece la pagina dei spettacoli ma ne vanno tocco piacere che allaggiano le arti per il quale avrà riuscito a procurarsi a più da maggio davano ancora il capolavoro con il italiano, la spettacola torno alla pagina di cronaca per approfondire le sue dettagli lo squale d'ossosigno della donna lo squale d'ossosigno della donna ad opera di un vecchio di 84 anni a somma di babosco ha trovato travolta il corso principi e donne col bambino a mezzo il bambino lo scegliavano e arrivi col giornale l'ho posato sul marmo del bambino tra le prigiole di prigioce poi quando sono felice per metterlo guardo la porta della mia perda della campina telefonica dove l'apparecchio lucicava a cupo della penufra nessuna fretta raccomando se spesso nessuna precipitazione era nato la lunga pazienza non altro a volerlo così bene lo santo verso lì i minuti non passavano mai era impossibile starsene fermi seduti si andò lentamente protettamente siccome si stendasse a sollevare i suoi 52 anni di vita ma appena li abbiamo messi in piedi non si trattene più gli spinze gli scaraventò verso la campina richiuse tra le quattro pareti di un vecchio legno scripolato di un vecchio legno scripolato una luce stenta si accese sulla sua testa in quel grerio chiarore stretto in quella par verticale l'architetto carrone trasse pebblilmente di tasca una mangiata di spiaggioni trova un gettone e forma un numero del suo destino cambiamo pagina giriamo pagina se ne girano sempre due alla volta ecco qui sono giovane si prova a rincare a nagarlo sono intelligente sono ricca ho un ottimo marito ricco anche lui è una via bellissima come me dicono riesco simpatica a tutti mi vesto bene non ho problemi di linea non ho problemi sessuali lasciamolo altre tre o quattro cose alla rinfusa lo stupendo vassoio d'argento ideato da un designer milanese che aveva comprato la settimana scorsa la tenerezza preziosa dello zio Emanuele l'arrivo del primo caldo ma non serviva naturalmente a nulla era come sentirsi rispondere da una di quelle rubriche di consigli per lei di settimanali femminili parole muffe astratte sotto le quali l'immagine restava intatto dolorosamente concreto oggi doppia dose di seconda determinazione vittoria l'ottimo marito si spilò nel palmo del disco in viola del primo flacone e il terreno del secondo poi prese dallo stupendo assoio d'argento il bicchiere d'acqua minerale non gasato avrò un pomeriggio piuttosto pesante pepe inghetti si lascia andare all'indietro nella poltrona Anna Carla si spose a mettergli decaffeinato una pottina di zucchero di zucchero di zucchero sono la moglie di un capitalista figlio di capitalisti e nipote di capitalisti provo a ripensare senso inverso sono piena di abitudini e pregiudizi borghisi e priva di ogni coscienza sociale e politica non mi interesso alle triste condizioni dei carrocerati dei ricoverati in un manicomio degli spastici e dei popoli sotto sviluppati e i cinesi se devo essere sincera mi rifiguro sempre con il codino e le mani infilate nelle maniche di una casacca ricamata a draghi non ho specchi talenti o capacità non ho speciali talenti o capacità non saprei dipingere stoffe per arritamento come Maria Pia inventare sapromobili di latta come Tedè vincere un torneo di golf o di bridge come nessuna delle mie amiche ma almeno loro ci provano e se mettessi su una boutique o una galleria d'arte dovrei fallire in due mesi la mia vita è vuota inutile frivola minimo dure con il consiglio di fabbrica disse il capitalista con la voce sofferta che avevano di questi tempi tutti tutti i capitalisti e Dio sa cosa mi sentirò chiedere stavolta poi abbiamo un sopralluogo del comune per quella storia dell'inquinamento e per semplificarmi la vita arriva un altro gruppo di quei tedeschi o svedesi o danesi a visitarmi lo stabilimento nuovo certe volte uno si chiede ma se non se lo chiese rimescolo il suo caffè e lo mando giù a piccoli sorsi sospettosi non ho pezzato carla ingronabile nemmeno l'autocritica senza niente era soltanto parole agli culi che non parlavano certo a dovere il zonno e il zonno era la mia cumbia retta ricorgita di rabbia che lo toglieva massimo e rita era massimo sullo stomaco era lui che la costringeva con i piccoli bilanci per cavalli che non si sbatta lui che la costringeva con i piccoli bilanci da casalini sbatta da un fattore con quello che era il caso e l'avrebbe detto aveva il dovere con dolcezza e con presenza per il suo problema se cosa stai diventando se cosa stai diventando un fattore c'era anche il caso di spitto riposare con la targina che diventare c'era con l'oro con lì ma con quel fattore potatelo speriamo che si interruppi se no quando lo scuolo sia la carina o il peso sulla sincera punta c'è qualcosa che non posso fare lavato gli occhi scusate mi sono seguito ma anche le gravi dei spettori le gravi sono un figura di me è sicuro che non c'è tratta di i miei guanti o qualcosa che risparmio l'applicazione più complessa niente solo che non le supporto più le rivedete di più quattro di razzola di razzola di razzola di razzola rispetto che si non solo gli dialetri quindi seguitori con sforzo di manipolazione tra parte ma si trova un interesse per il problema si andiamo a begoli medicinali e malattia il fatto di produttivo del peccato le appoggia il prete scusami allora faccio un uomo di telefono come fa il coso? va bene povero Vittorio se c'era una cosa che lo deprimeva sul serio a pari dei pranzi d'affari i suoi mani più o meno di fantasia era di trovarsi coinvolto nell'insolubile problema della servitù si alzò anche lei e restò un momento a guardarsi intorno indecisa notando meccanicamente altri segni di disservizio da uno dei tappeti accupiti sotto il piede di una poltrona all'acqua d'orri visibilmente da un gambe ab nei due vasi di tulipani sul camionetto e un giocattolo di Francesca rimasto in un angolo vero però che è quello che avrebbe dovuto pensare la bambina Massimo le avrebbe ripetuto che beh non sapeva cosa ma certo qualcosa da ripetere avrebbe trovato Anna Carla alzò le spalle e se ne andò via in camera sua se quel mattone credeva di togliere il zonno con i suoi miserabili colpi di spillo voleva dire che non la conosceva d'accordo la notte prima non aveva dormito troppo bene ma avrebbe recuperato adesso e dopo a mente riposata gli avrebbe scritto quello che pensava di lui si svestì con pochi bruschi movimenti e si estraiò pugnacemente sul letto più tardi fatta la doccia si trovò col blocco del lettore abbandonato sulle ginocchia e l'estremità del labbero tra i denti ascoltare il trapeggio di polvere che al sole faceva risaltare sotto il piccolo comune a sinistra del timano lo spazzato da almeno tre giorni incredibile si stupì per la millesima volta la rabbia la furia primigenia la furia che Benito e Maria due persone di cui ricordava stento il cognome le scatenavano dentro così era stato del resto ma non era una consolazione con altre compie venute dalla Serra di Santa alle mare dalla Spagna dal Matagascar tutte dotate di quel potere transitorio demonico soggetti dei passervizi leggera consolazione del pericolo che risacchi su chi ti fa la stessa cosa o che altri perfettamente strani come la scena carrua per esempio a fare un potere valore ma subito si corresse portendo la pere carrua il carrua del caso del tutto diverso era Massimo che l'hanno mentalizzato usato contro le le era maggiore che sarà il più terzo il modo più 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 gianco e più giusto si più giusto per metterla a terra per tentare di metterla a terra diciamo meglio perché lei di Massimo mette il carrua a nascarla a cavallo di campi si è giusto il blocco sulla coscia e comincia a scappare rapidamente scrisi carrua senti e poi si fermò la vecchia pentola del barbire sembrava segnare le nove ma l'immagine era quello esciata e l'architetto carrone che sediva davanti al lago a largo specchio dagli urli qua e l'asa scheggiati sapeva che erano soltanto le tre del pomeriggio aspettate aspettate la vita era un eterno aspettare sotto la capa bianca ma non meagolate che lo avviluppava dal collo alle ginocchia l'architetto si sentì all'improvviso come una camicia di forza l'immensa trionfante esultanza di due ore fa si era già riconvertita in affanno il barbire era stato un errore si disse avrebbe potuto fare una lunga lunga passeggiata o prendere una barca e andarsi a sbracciare sul pò muoversi sfogarsi fisicamente tenere lontana la mente dal pensiero fisso di stasera poi mi spoltirà chi cuore che pitto chi sembra il piole e tu svolisci il salvatore svolisci senza paura libera o nessun altro argomento di farlo mi sono portati i capelli pochino al collo ma almeno tornato a fare più classico non c'era altra soluzione perché mi ha preparato di scorsi dal greggio a fare contro corrente tutte le cose anche a costo di riempire e lo sapeva lui quando gli aveva risso il dubbio che anche stavolta qualcosa un ripensamento un imprevisto qualsiasi o niente gli mandasse tutto all'aria all'ultimo momento lo riassalì così di colpo che il barbiere fermò allarmato le forbici e no architetto se mi salta in questa maniera no impossibile dopo una resa così esplicita questi terrori non avevano nessun fondamento logico erano le secrezioni irrazionali di chi sta già allungando la mano verso la mela una specie di agulina che loro deba debolizza umano solo stamattina prima della telefonata quando ancora non era sicuro di niente avrebbe accettato con gioia qualsiasi rinvio pur di avere la certezza e adesso non era capace di aspettare tranquillo fino a dopo cena la carne debole disse al barbiere tamburellando con le dita sulle ginocchia cavallate dove il settimanale erotico aperto al paginone centrale a colori si andava lentamente ricoprendo i capelli tagliati è certo che davanti a una latteria di questa potenza disse il barbiere che aveva erroneamente collegato l'osservazione con i seni della madella con gala ancora visibili sotto le giocche prezzolate e la forfora l'architetto l'ufficio della bottega che avevano saputo restare aperti a tutte le esperienze pronti a cogliere tutte le occasioni della vita la sua vita e ce l'aveva lì nello specchio gli piacque gli sembro ricca varia piena interessante e se ne vedevano bene i segni dal colo bianco emergeva un volto intenso espressivo nobilmente rapace come gli aveva detto chi gli aveva detto conosceva tanta gente frequentava ogni genere d'ambiente chiunque poteva averglielo detto nell'alone rosato di una paralume di seta di un paralume di seta attorno a un tavolino di comitato sopra un cuscino matito tra le panchine e manchioni di un palentino o studiando il sopravvillo nel buio di un cinema se le arde che ora apre disse il barbire la sferza alle tre io l'ho già visto due volte è forte artistico ma forte insomma merita merita un modo intelligente per far passare un altro paio d'ore poi giusto per il te avrebbe fatto una visita alle contesse piovano e più tardi sarebbe passato ad anateria a Bollero per l'inaugurazione di coda mostra mitologica c'era sempre gente con lui era utile tenere i contatti dal buon Bollero cenare avrebbe cenato fuori inutile tornare a casa in via Peron per poi rifarsi tutta la strada fino al suo studio di mia mazzini a parte il fatto che una gran fame e l'illiminenza dell'incontro non l'avrebbe probabilmente avuto e poi doveva rimetterla un po' in ordine il suo studio renderlo un po' più presentabile sebbene so che no non fosse il caso di formalizzarsi troppo perché o veniva o non veniva e se veniva risentì come una musica la voce che diceva va bene sarò lì tra le dieci e le dieci e mezzo nella lunga stanza di Anna Carla e il sole del pubblico tra la porta finestra aperte in fondo sullo stretto balcone e sulla piazza ma dietro di dentro di l'anno anche le finestre e altre grigie sulle piaccure erano aperte era rimasta aperta anche la porta del bagno accanto al letto di sfatto il piccolo telefono verde oliva smese di suonare mentre da lontano la sfregola voce di Benito credeva qualcosa a un'altra derivazione poi Maria venne a bussare chiamando signora entrò e fece una smorfia vedendo il letto e il bagno da riordinare non c'è urlò perso il corridoio posso nel bagno torpa per cambiare capo a due asciugamani ma il resto della stanza appariva perfettamente in ordine i mobili erano chiusi e nessun indumento era rimasto intorno salvo le pantofole verso i piedi del letto e un piccolo sciarle lasciato sulla spoliera di una seggela questa seggela parteneva dal resto al tavolino sistemato di piccoli fra la porta finestra che fermò con l'angolo con due punti pur scappati dal piano di marmo lo studiolo di Anna Galla dove le domestiche non dovevano mai toccare nulla e il divano nell'angolo opposto non era invece compreso nello studiolo sebbene fosse qui più spesso che al tavolino che Anna Galla veniva a leggere a sentire i suoi dischi o a scrivere le sue lettere i cuscini erano da rassettare e infatti il portaceneri sul tappeto era da scuotare dal tappeto c'era anche da raccogliere un blocco di carta da lettere azzurre ormai molto assottigliato con una birrucciata infilata di traverso e c'era in occhio da scuotare il cestino della carta pieno di foglie appollottolati pare si che no sbuffando per riversare intanto nel cestino il contenuto dell'ubbosa cenere perché è così difficile girare le pagine poi ne giro sempre per la volta per spazio ecco poi vista la lunghezza dei mozziconi schiacciati grido verso la porta aperta di cosa se lo vuoi venire a prendere ma cosa e vieni qui no raccolte il blocco e si si mette sul tifano a gambe larghe già esausta quando il marito arrivò gli indicò il poso cenere in terra ah disse benito espezionando qui ci è passato un pochetto sano e sono quasi intere si deve pescare le sigarette appena cominciate cercando via di restaurarle come le eri tutte si vede che avevi nervi restò accolcolato col mucchio di ricuperi nel palmo guardando la moglie che si faceva vento con la carta da lettere beh concluse sempre comodo fanno tu consola dico le cicchie sospiro a Maria mi senti spettolare e salto con un litro la piazzatura per fare il letto sotto il blocco sul tifano ma dico io dove sta scritto rica un cattolo e le lettole al meglio che se devo fare la camera due volte a giro che la rifaccio che la rifaccio a lei se non dormono nemmeno insieme ma questo massimo chi sarebbe che si è venito dal tifano quello di pre no quello è l'altro massimo è quello che c'era c'era in grisiera quelli campi che si trovano negli ultimi momenti ma perché massimo senti sei soltanto a credita ci do benito ma che dici e dico quello che si è scritto anche ah ti sembra interessato allora non ti cato e che altro dice niente come niente niente ho finito qui ho scritto però che lo sono tanti rappoggi e ha già letto di più la spazzante marina più sono giovani più sono mignotte di più la spazzante marina su colettor e su colettor sono che andano benissimo anche così con un calcio fortunato che le risparmia di chenarsi riusci a spedire entrambe le pantuole sotto le tavolino da notte ecco fatto e disse benito senti quest'altro caro massimo ti ho sempre saputo capace di qualsiasi passezza ma permettimi di dirti che quella di risera è stata la più la più cosa sollecitò maria con impazienza non dice come non dice anche questa finisce qui era nel gestino aspetta che guarda le altre ce n'è pena oggi si è uno dei mozziconi posando gli altri sulla cassa punk e si mise a spiegare i fogli e poi lottolati maria si sedette pesantemente sul letto qui dice caro massimo manteniamoci almeno su un piano di buona educazione io a posto e poi è finito qui dice massimo caro ma il caro è cancellato e non c'è altro qui invece dice massimo io a posto non ci sono mai stata e non so se ci metterò mai piedi ma per quanto riguarda la mia associazione con l'architetto che architetto e non lo dice ah ecco lo dice in quest'altro caro massimo indipendentemente dal resto io dell'architetto carrone ma chi è tu lo sai no è finito no continuo io dell'architetto carrone ne ho abbastanza tutti i giorni è troppo omicidio abituato o no omicidio si omicidio b no omicidio omicidio rituale ma è matta omicidio rituale o no facciamolo fuori sul serio una buona volta ci guadagneremo tutte e due e poi che c'è scritto e poi basta non ce n'è più ma resistrete un po' a pensare ma resistrete un po' a pensare è matta sono matti concluso un po' delusa dai vieni che adesso rientra la francese con la bambina non facciamoci trovare quinta con la gatta morta ok quello che c'è scritto è una grande dolcezza una pagata sua vita rallentavano ogni gesto di Anna Carla era lei stessa consapevole e felice in un modo anche sottotito avattato come se le fosse appena dedicato dentro attraverso quel suo filtro di segreto silenzio finivano i suoni le parole del mondo di fuori lasciando scorie preziose d'intimida diposate d'argento freschezze d'acqua versate in un bicchiere di cristallo mi ha appena letto quello che c'è scritto dietro bene stelline io spero che per cambiare un po' come tipologia di video vi sia piaciuto fatemelo sapere attraverso interazioni quindi commenti e like così capisco un po' i vostri gusti ma a prescindere anche se non è dei vostri gusti mi fa sempre molto molto piacere leggervi come sapete vi rispondo sempre e inoltre le vostre interazioni sono molto importanti per far rimanere in vita questo canale quindi questo video finisce qui io vi auguro una dolcissima una dolcissima 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 buonanotte stelline belle fate i sogni grazie grazie